Su quel neonato morto dopo il parto in casa, gli inquirenti vogliono vederci chiaro. È per questo che la Procura della Repubblica di Trieste ha disposto l'autopsia sul corpicino della creatura fatta venire alla luce tra le mura domestiche di una famiglia straniera residente nel comune di San Dorligo della Valle e Dolina. Il fatto è avvenuto nella serata di mercoledì 19 gennaio. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, il bimbo era ormai in arresto cardiaco e nemmeno i numerosi tentativi di rianimazione praticati sia sul posto che l'ospedale infantile Burlo Garofalo hanno potuto salvarlo. Il neonato sarebbe venuto alla luce attorno alle 20.30, ma l'allarme al 118 sarebbe arrivato solo dopo le 23. La famiglia del bimbo si sarebbe affidata, per quello che viene definito parto naturale, ad un'ostetrica regolarmente operante e registrata all'ordine. Il procuratore capo Antonio De Nicolo, che si è confrontato personalmente con il PM Cristina Baccer prima dell'attivazione del procedimento, ha sottolineato come sia stato aperto un fascicolo a carico di gnoti. Qualsiasi valutazione andrà fatta a seguito dell'autopsia, ha spiegato a Telequattro. Dunque al momento nessun indagato, solo dopo il parere dell'anatomo patologo, si procederà ad un'eventuale valutazione delle responsabilità su quanto accaduto relativamente al parto, a quanto successo subito dopo e alle tempistiche della chiamata di soccorso. Un altro caso simile si verificò a Trieste circa un anno fa. In quell'occasione però i sanitari riuscirono a salvare la vita al neonato.